Purtroppo è andata male, è andata male perché si è perso e si è perso in maniera decisamente dolorosa perché si è preso gol letteralmente allo scadere però diciamo che per quanto io personalmente, perché ero comunque tutti i tifosi di Boernesi rimaniamo con la mare in bocca per aver perso e per aver perso in quel modo c'è da dire che dobbiamo essere, non con Ted, ci mancherebbe, però meno tristi di me le siamo, perché? Perché comunque è una partita che a parere mio come spesso è capitato quest'anno alla fine parte del risultato non molto coerente perché secondo me il risultato più esatto sarebbe stato il pareggio perché noi scordiamoci che come il Siena ha fatto gol alla fine noi in maniera molto stupida, anzi in maniera molto diciamo non stupida, però in maniera molto superficiale abbiamo sbagliato i rigori, quindi magari, non so, se magari buttavamo dentro i rigori la partita sarebbe stata diversa ma è detto che comunque più o meno ci siamo equivalenti a livello di prestazione e quindi secondo me è giusto essere tristi per il risultato ma non per la prestazione in sé per sé perché comunque il Siena non si è dimostrato a parere mio con tutto rispetto quella grandissima squadra da temere come tanti, anche io personalmente, credevo e che sinceramente, se ho la giù e se ne prendano i tre, come mi sa di, no? invece bene o male è stata una partita piuttosto equilibrata purtroppo per noi però alla fine il risultato finale non è stato così però come stavo appunto dicendo, secondo me non è tutto da buttare tralasciando il risultato perché secondo me per quanto il Livorno, beh, chiaramente, ormai ci ho fatto l'abitudine già o sì ha giocato leggermente meno peggio, sentite, non voglio dire un po' meglio meno peggio dell'altra volta perché comunque non scordiamoci che il Livorno è una squadra piena zeppa di infortuni infortuni importanti, disqualifiche anche se alcune cose non l'ho capito e poi nel caso, se me l'ho riorto, ci arriveremo dopo per quanto riguarda il livello di formazione iniziale, chi manda in campo poi scariri va detto che il Livorno, ieri, appunto, non giocando come al solito, ovvero, di merda perché la maggior parte delle volte ti limiti, come sempre, a buttare la palla su e sperare che un attaccante o qualcuno là su possa fare qualcosa Livorno sono aggiornato meno peggio, ho provato tanto a fare qualcosa e appunto il discorso del lancio dei lunghi, secondo me, ieri sono stati però in maniera minore rispetto alle partite precedenti e che direi che secondo me possiamo non ritenersi soddisfatti però appunto leggermente un pochino più contenti perché secondo me si è visto qualcosa di più calcolando poi tutte le cose, un discorso di asferta, appunto, infortuni e bla 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 quindi direi che secondo me non è così tutta la buttaglia, la prestazione perché anche come vedete poi, fino a che non avessi visto la partita come vedrete poi dopo, con le livelli si rendete conto che anche il Livorno si è reso non così tanto magari, non così in maniera proprio aggressiva però si è reso a volte pericoloso per quanto riguarda il discorso invece di formazione io lo sa che non ho capito è perché ha lasciato soprattutto in trasfero soprattutto contro il Siana che sulla carta sarebbe stata secondo me una delle delle partite cioè mi pensavo, anzi, fosse stata una delle delle partite che deve mettere se ce l'ha in campo quelli, i suoi amici migliori non che ho capito è perché abbia lasciato in panchina l'Ambrughi non che di per sé la difesa poi alla fine si sia comportata così male soprattutto rispetto ad altre partite perché incredibilmente a per il mio oggi Rossini cioè oggi, scusate ieri Rossini che sto registrando oggi ieri Rossini credo che abbia sbagliato veramente poco soprattutto rispetto alle prestazioni precedenti in cui almeno Varchi e Cappellata la faceva almeno una partita la faceva così come magari Borghese forse quello che magari ieri non ha giocato in maniera decisamente brillante o perlomeno in maniera decente può essere Gonnelli comunque non ho capito che non abbia fatto giocare l'Ambrughi che secondo me, almeno data per la prestazione finale poteva sicuramente giocare l'Ambrughi secondo me di Gonnelli almeno sulla carta è più forte l'Ambrughi di Gonnelli anche se magari a livello di ruolo sono leggermente diversi e quindi veste quante infatti la cosa principale non ho capito perché non abbia fatto giocare dall'inizio l'Ambrughi e poi cosa importante che ieri si è vista non ho capito perché non ha fatto giocare ieri in inizio dal primo minuto piuttosto se metti a casa e dici ok io magari so che questo ragazzo non ce la fa ha già tutta la partita lo fa giocare al titolare e poi fa il cambio dopo secondo me è meglio sì soprattutto se gioi fuori asse soprattutto se gioi contro il Siena soprattutto se hai un derby è una partita parecchio sentita e secondo me, come ho detto prima quando ci sono queste partite di video si hai l'opportunità di far giocare i tuoi amici migliori i tuoi calciatori migliori quindi veste quanto però chiaramente mi auguro che non abbia avuto le giuste motivazioni anche se purtroppo alla fine per quanto guarda il risultato finale anche se pur bugiardo sembrerebbe che non l'abbia così azzeccata comunque questo è il discorso della formazione dei titolari parlando invece della partita in sé per sé come ho già comunque fatto notare prima è stata una partita che più o meno si equivalza diciamo per tutto il tempo forse ha creato qualcosa di più in Siena magari più che ha creato qualcosa di più pericoloso il Siena rispetto a noi però diciamo che fra l'altro sono stati uguali parecchio uguali sia il primo e il giorno tempo chiaramente il giorno tempo siamo un po' più tutte le squadre si sentono stanchezza e quindi un po' più di errori un po' meno di corsa però è stata una partita che più o meno diciamo a livello di ritmo è stata uguale sia nel primo e nel giorno tempo non faccio questa grande differenza non racconto la parte dirò proprio adesso dell'episodio di Rigori e del gol e del Siena la differenza del primo e del tempo è come sto appena dicendo sono stati uguali secondo me però appunto la differenza principale anzi credo l'unica vera differenza è stata che nel primo tempo abbiamo assicurato il gol noi con il Rigori è sbagliato la muria fra l'altro perché non lo sapesse perché non l'avessi visto ne ha buttato fuori direttamente nemmeno magari ne ha ne ho riparato e invece il solo tempo purtroppo per noi allo scadere a 93esimo e 40 tipo no se del genere 45 su comunque l'ultimo minuto di recupero il Siena ha fatto gol per il resto come ho detto tre volte da vattro è stata comunque una partita costante ecco a livello di ritmi chiaramente poi stanchezza compressa da tutte e delle squadre e niente per quanto riguarda con il primo livello di prestazione secondo me ormai tanto con gli giocatori che abbiamo la situazione è questa e quindi non possiamo pretendere di più soprattutto per la qualità dei giocatori che abbiamo ecco quindi la prestazione è stata questa si viene un po' meglio rispetto alle altre però la cosa che ancora si nota in maniera evidente anche se inizialmente non poteva sembrare così ma ormai dovuto in partita per il mio invece lo è è che veramente un attacco non ci sa non ha meritato ieri non lo sa inguardabile perché veramente rispetto come ho giocato parecchie partite fa soprattutto quando ho cominciato a giocare titolare mi è sembrato una sorta di mummia così che in campo Murillo per quanto sono me per quanto ti lasciano dei rigori sbagliato se nemmeno non ha fatto l'attiva prestazione però dovrebbe cercare di rendersi più pericoloso perché così veramente difficilmente può fare gol e appunto diciamo che la zona del rifatto d'attacco insomma comunque il discorso offensivo della squadra in sé per sé lascia un po' desiderare perché quelle occasioni che hai creato tra l'accia del rigore sono state comunque occasioni più o meno da fuoriare ovvero che hai tirato da fuoriare sperando di incocciare bene la palla e sperando che appunto la palla entrassi dentro diciamo che belle azioni ne hai creati veramente poche 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 ecco per quanto riguarda il discorso attacco insomma il discorso offensivo e oltre a questo il discorso d'attacco la notte rossassinata mi dispiace è veramente il ritmo lento cioè come rallenta il ritmo lui già donato io mi dispiace ma secondo me non è da da Livorno ma non perché è un'ambiente di scarcio o altro ci mancherebbe ovviamente che per il gioco che dovrebbe avere Livorno già donato c'è un vino veramente poco perché era lenta troppo 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 gioco e fra l'altro ora l'anno me ora vabbè ieri che altre volte sinceramente non mi ricordo ieri l'anno me si abbatte e comunque punizione e calcio d'angolo e il bimbi non ha cercato una punizione nemmeno un calcio d'angolo no forse una punizione una forse una che se non sbarro che sbarro la pesama di testa potevamo iniziano tempo magari addirittura portarti in vantaggio o per il resto non ha cercato niente niente trovo magari le batteva erano troppo lunghe o magari sbagliava e la dava alziana e mi dispiace ma ancora una volta si è notato che Giandona non serve al Gio di Livorno comunque questo è quanto e credo che più o meno di tutte le cose ci vuole da dire spero non avere diretti meno superficiale come spesso faccio perché mai inizio da no se poi mi concentro su altre perdo il filo no magari lascia questa serie non arriva una conclusione infatti ma come inizia da quei finisce lo sa spero di non aver fatto ciò anche stavolta e niente purtroppo è andato sì prima coglione perché fra l'altro di Nelziana ce l'hanno fatto pesare il fatto di aver perso sia sui social con quelle maledette foto e sia giù perché sì ho fatto per la prima volta una trasferta ho fatto lì me la son sentita e ho portato merda quindi dispiace fa che vai prima trasferta prende il 170 non è che sia una bella ossa fra l'artista di Nelziana ti passa ti manda un domo così si guarderà come finirà a ritorno sperando che possiamo recuperare giocatori importanti giocatori importanti chissà come andranno le ossa quando saranno giocatori importanti quali vantaggiato quale ienice in piena forma chissà come andranno le ossa vabbè diciamo che il nostro vero campionato inizierà da quando avremo la squadra al completo sperando possa cambiare qualcosa comunque arriviamo alle conclusioni bene o male bene o male la classifica comunque rimane per noi più o meno una vella niente cercare la nostra partita di ribaltare la situazione un po' a livello di risultato e basta c'è di altri forse è portato l'osa anzi se non è portato l'osa troppo per lunghe un queto questo prima di concludere voglio dire una cosina che mi è successa tra virgolette che è successa l'altra settimana comunque anzi l'altro fine settimana e inizio questa settimana qua per quanto riguarda i discorsi video commenti ragazzi come dissi già nel primo sono sicuro poi forse in quelli dopo non me lo ricordo io a differenza degli altri anni farò commenti diciamo su le partite che vedrò e basta nel senso la carattina facevo questa cosa che magari commentavo la partita che non vedevo no solamente che siccome lavoro ci sono delle tempistiche diverse rispetto agli altri anni tante volte mi capita di non vedere tutte le partite addirittura di non vederla del tutto ma magari mi capita di vedere un tempo a parte nemmeno un tempo quindi come ho detto quando riuscirò a vedere tutta la partita farò commenti altrimenti non le faccio quindi se non vedete il commento entro 2-3 giorni dalla partita vuol dire che non lo faccio e che non ho potuto vederla era così perché intanto mi hanno chiesto ma il commento mi fa tantissimo piacere che mi cerchiate per questa serie però se non vedete questa serie ve lo ridico vuol dire che non ho visto la partita e di conseguenza appunto il video non esce via detto questo basta sarà 20 minuti di video che sto facendo in cui sto parlando e niente ci rivediamo appunto al prossimo video commento e sperando che le cose possano essere diverse via ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.